Vi è mai capitato di sentire il cuore scoppiarvi nel petto e non avevate appena incontrato l'uomo o la donna della vostra vita? Seguiteci, perché ne parleremo con due esperti che ci aiuteranno a capire meglio di che cosa si tratta. Sono con noi il dottor Edoardo Gronda e la dottoressa Lidia Rota. Capita spesso di sentire in televisione espressioni del tipo fibrilla il Parlamento, fibrilla l'economia, borsa in fibrillazione. È piaciuta questa parola fibrillazione, la usano in tanti, vuol dire disordine, vuol dire non riuscire ad arrivare dove si vuole andare perché si fa un movimento scomposto. Dottore, mia mamma l'altro giorno si è sentita male e allora l'abbiamo subito portata al pronto soccorso dove l'hanno ricoverata per fare degli accertamenti al cuore. Per inquadrare il problema mi aiuta a capire come funziona il cuore? Il cuore è un muscolo che funziona da pompa, è composto da quattro cavità. Due cavità di destra raccolgono il sangue venoso dal circolo sistemico e lo spingono nel circolo polmonare dove viene ossigenato perché è un sangue povero di ossigeno. Il sangue ossigenato raggiunge le due cavità di sinistra e di lì viene pompato nelle arterie che si diffondono, si distribuiscono a tutto l'organismo. A mia mamma hanno detto che potrebbe trattarsi di un caso di fibrillazione atriale. È la più comune delle aritmie del cuore e riguarda da una certa età in poi almeno un italiano su cento. In Europa si stima che ci siano 5 milioni di persone che ne soffrono. Dottoressa, me lo può spiegare con un'immagine? Ha presente la sua automobile. Se lei non la porta dal meccanico periodicamente, prima o poi la pompa della benzina può funzionare male. La benzina arriva in un modo discontinuo, la macchina sussulta e procede sussultando, arrivando dove deve andare, ma in modo discontinuo. La cosa che mi stupisce è che mia mamma non sentiva niente, non si era accorta di nulla. Ma nel 50-60% dei casi la fibrillazione atriale può insorgere e rimanere asintomatica nel soggetto. In un'altra significativa percentuale di soggetti invece compare con una manifestazione del battito cardiaco che diventa improvvisamente disordinato e viene percepito come un pesce che si agita nel petto, un battito d'ala irregolare e si accompagna ad altri sintomi, mancanza di forze, difficoltà nella respirazione, particolarmente sotto sforzo, senso di mancamento. Ci sono delle cose che sono capitate forse alla sua mamma e magari lei non se ne è accorto. Per esempio se la mamma era abituata a fare due rampe di scale senza avere il fiato corto e invece da un po' di tempo segnala che dopo i primi gradini già fa fatica. Per esempio se la mamma riferisce ogni tanto di avere come un senso di svuotamento della testa, come un senso di vertigine o come la necessità di respirare profondamente ma di non riuscirci, oppure di sentire il cuore che batte in una maniera disordinata, questi possono essere i sintomi di una fibrillazione atriale, soprattutto di un disturbo di ritmo che va e che viene e che non è persistentemente presente. C'è differenza tra uomini e donne in questa patologia? Ci sono moltissime differenze tra uomini e donne in generale. Ci sono moltissime differenze che dipendono soprattutto dal mondo ormonale della donna. Il cuore della donna è un po' più piccolo rispetto a quello dell'uomo. Le coronarie della donna sono le arterie coronarie, sono leggermente più piccole rispetto a quello dell'uomo. È per questo che la donna a volte ha dei sintomi, per esempio per l'infarto o per la fibrillazione di cui stiamo parlando, che sono un po' più sfumati, ma soprattutto la donna ha un approccio alla malattia e al dolore che è un approccio un pochino meno attento, meno allerta. La donna spesso tende a sottovalutare alcuni sintomi, anche se si ripresentano di frequente, perché ha altro da fare, perché deve preoccuparsi di organizzare la famiglia e purtroppo qualche volta arriva in ospedale troppo tardi. Ma c'è un modo pratico con cui ognuno di noi può provare a tenere monitorato il battito del cuore nel corso della giornata? Sì, per monitorare il battito del cuore è un modo cielo, possono fare anche i bambini ed è molto semplice. Si cerca il punto in cui l'arteria radiale è più superficiale alla base del pollice, si pongono piano e delicatamente due dita e si sente un battito del cuore che dovrebbe essere regolare. Se questo battito fosse aritmico, con delle pause diverse fra un battito e l'altro, è bene ripetere qualche volta questa esplorazione del polso e se dovesse persistere questa aritmia insieme ad alcuni degli altri sintomi che ho citato, è bene andare dal proprio medico per fare una verifica. Dottore, quando mia mamma è arrivata in ospedale, quale esame le hanno fatto? L'esame da fare immediatamente è di fronte a un sospetto di fibrillazione atriale, l'elettrocardiogramma. L'elettrocardiogramma permette la registrazione dell'attività elettrica del cuore che normalmente è rappresentata da una sequenza di onde che è molto regolare e che esprime la regolarità del battito cardiaco. Se compare la fibrillazione atriale, questa regolarità è persa, le onde si susseguono in maniera disordinata, si aggregano in gruppi e poi sono seguite da tratti in cui l'attività elettrica è in pausa e poi riprende ancora rapidamente in maniera non omogenea. Ci sono altri sistemi per tenere controllato il battito del cuore? Sì, ci sono altri sistemi che consentono la registrazione dell'elettrocardiogramma per giornate intere, dalle 24 ore fino a diversi giorni e sono gli elettrocardiogrammi secondo Holter. Ci sono anche apparecchiature più sofisticate della grandezza di un chip che possono essere inserite con un piccolo atto chirurgico sottopelle e che registrano l'elettrocardiogramma molto lungo, anche per alcuni anni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS